Guardate cosa sta facendo questo signore in questo video. Ha piantato un paletto per terra in un terreno molto umido e sta generando delle vibrazioni. All'improvviso centinaia di lombrichi escono fuori dal terreno e vengono prontamente raccolti da questa signora. Questo è un video che fa da approfondimento un libro che sto leggendo. Il libro contiene dei QR code che permettono appunto di vedere dei video in cui vengono spiegati determinati comportamenti animali. Il libro si chiama Adattamenti meravigliosi e l'autore è Kenneth Catania. L'autore è uno scienziato ed è lo scopritore di quei comportamenti particolari, di quegli adattamenti meravigliosi di cui parla. Ci sono i toporagni, ci sono le talpe dal muso stellato, ci sono anche i lombrichi. Quindi animali un pochettino di nicchia. E la cosa particolarmente bella di questo libro è tutto l'entusiasmo dello scienziato che scopre passo dopo passo le origini di determinati comportamenti. Ma alla fine, perché i lombrichi uscivano dal terreno? Non ve lo dico, non voglio farvi spoiler se volete leggere il libro, però sappiate che è qualcosa di veramente sorprendente.